A Matera si rinnova l'appuntamento con le grandi mostre nei sassi, la storica rassegna di scultura contemporanea giunta alla trentesima edizione. Dal 30 giugno al 5 novembre ospiterà nelle suggestive chiese rupestri Madonna delle Virtue e San Nicola di Greci 38 opere dello scultore veronese Novello Finotti. L'artista, dopo il successo riscosso a Seul e Busan in Corea del Sud, espone per la prima volta a Matera opere in marmo e bronzo realizzate tra il 1968 e 2014, esposte anche altre 14 opere nelle sale del Musma, Museo della Scultura Contemporanea. Propongo una parte del mio lavoro, di una vita di lavoro, una scelta che dà l'idea del passaggio dagli anni 66 in poi, insomma fino adesso. Questa per esempio è una scultura che il titolo è la macchina del tempo e l'ho eseguita perché ho avuto questo invito alla pienale di Venezia, proprio ero giovanissimo, è stato invitato con un gruppo di opere e questa faceva parte di questo gruppo e c'è l'idea di questo roteare del tempo che ruota, le prime macchine sei fantasiose che uscivano e ho costruito questa immagine fra architettura e figurazioni, flash di presenze, di visi che possono ricordare i tempi passati, il futuro, insomma. È una delle 38 opere qui esposte, tanta esperienza nazionale e internazionale ma maestro la prima volta qui a Matera per un appuntamento importante, il trentesimo anno delle grandi mostre nei Sassi. Sì, questo devo dire che mi ha un po' impressionato subito perché ho avuto questo invito e non me l'aspettavo, ero pronto, le opere le avevo, ero reduce da una mostra, anzi due mostri in Corea, uno a Seul in due musei diversi. Quindi sono arrivate le opere e in quel momento sono stato invitato, è un grande onore, è una grande gioia e anche una preoccupazione perché l'ambiente è molto ricco. Le strutture sono sculture qua, cioè devi competere con una scultura ad incavo che avrà 3.000 anni, quindi già piena di umori e di storia. Infatti è una location piuttosto suggestiva. Sì, sì, indubbiamente se la scultura riesce a reggere all'impatto, anche per uno scultore che lavora la materia, io lavoro anche il marmo come hai visto, quindi per me, sai, riuscire a creare qualcosa dove la gente poi ha vissuto. Ha vissuto e ti poni in che modo vivevano in queste situazioni, quindi è pieno di umori. Io sento che trassuda di umori, quindi sono molto felice. Ho trovato dei personaggi, anche il gruppo della scaletta, che veramente danno il cuore e fanno il possibile finché le opere siano sistemate in modo giusto, corretto, quindi grande soddisfazione, grazie ai materani e a tutto questo gruppo. Partiamo da un numero, il numero 30, perché è la trentesima edizione delle grandi mostre nei Sassi con un grande artista, Finotti. Finotti, sì. Novello Finotti è l'artista che abbiamo proposto per la trentesima edizione delle grandi mostre. La prima delle grandi mostre risale al 1987 con Fausto Melotti e da quella data fino a Pietro Guida l'anno scorso abbiamo inanellato una serie di successi perché ogni mostra è stato un successo increscendo costante fino ad arrivare a questa edizione che appunto ha preso in considerazione questo grande maestro contemporaneo, le cui opere sono sono state ultimamente esposte anche a Seul e gran parte delle opere che sono ambientate qui a Madonna e Virtù di San Nicola dei Greci sono arrivate direttamente da Seul. Un'altra parte di queste opere, una parte sostanziosa anzi devo dire, sembrano opere pensate proprio per questo territorio perché alcune come l'uomo che cammina per esempio oppure la macchina del tempo o ancora la donna tartaruga che con il suo carapace rappresenta l'uomo che abitava le grotte dei Sassi stanno a segnare il passaggio, il cammino dell'uomo sul territorio nel tempo a rappresentare questi 10.000 anni di storia che fanno di Matera una delle città più antiche del mondo. 38 le opere qui esposte, ce ne sono altre 14 al Musma, possibilità così di rivivere la carriera artistica di Finotti? Sì, è un percorso, quello che abbiamo voluto presentare, anzi colgo l'occasione per dire che coloro i quali vengono in visita alla mostra qui a Madonna delle Virtù con l'acquisto di un biglietto ridotto possono vedere anche la mostra che abbiamo allestito al Musma e viceversa, coloro che sono in visita al Musma possono venire a visitare con un biglietto ridotto la mostra che abbiamo allestito qui a Madonna delle Virtù. Al Musma in particolare abbiamo esposto sette bronzi, sette bronzetti, due dei quali erano in dotazione già al Musma, quindi sono sette bronzetti e sette acqueforti molto belle, molto grandi che rappresentano uno studio anche che poi lui ha realizzato con opere in marmo o opere in bronzo, queste sono le materie che lui predilige nella realizzazione delle sue opere. Perché la scelta in questa trentesima edizione è caduta sul maestro Finotti? Perché quello che mi ha colpito è come alcune sue opere siano rappresentative del territorio in cui sono state esposte e mi sembrava che portare qui queste opere fosse la cosa migliore, nessun altro aveva questi requisiti. L'appuntamento lo ribadiamo dal 30 giugno al 5 novembre, dunque ci sono mesi su mesi per poterlo scoprire questo artista. Assolutamente sì, lui d'altronde stamattina è qui presente e quindi è già stato assaltato da centinaia di turisti che sono di passaggio, molti dei quali lo conoscono personalmente, anzi io personalmente gli ho detto ai momenti più conoscenti qui a Matera che non a Verona insomma perché lui le sue origini sono veronesi e oltre ad avere un atelier a Somma Campagna vicino a Verona ne ha un altro a Pietrasanta in Versiglia dove si lavora il marmo di Carrara e dove ci sono centinaia di atelier e di artisti. Dalle profondità del tempo, e questo è il titolo dell'antologica del maestro Finotti, dal 30 giugno al 5 novembre possibilità di scoprire qui a Matera un grande artista? Sì, è un artista che è diciamo diverso dagli artisti che abbiamo visto qui recentemente di formazione veronese e che però ha specializzato la sua arte soprattutto nell'uso diverso dei materiali e in una grande conoscenza di materiali anche diversi che lui di volta in volta diciamo così che si lega poi ai suoi significati, a questo suo mondo in evoluzione. 38 le opere qui esposte, ce ne sono anche 14 al Musma? Sì, ci sono le opere che diciamo coprono quasi 50 anni di carriera e la cosa interessante è che sono appunto l'uso di materiali diversi, fa capire anche la versatilità della preparazione di Finotti che alterna appunto il marmo di Carrara con il marmo nero del Belgio, con il bronzo e quindi è un artista che si è saputo proprio evolvere nel tempo seguendo anche questa sua meditazione molto interessante, ai limiti della sua realtà ma sempre all'interno di una assoluta riconoscibilità che lo ha accompagnato per tutta la vita. Un artista che arriva per la prima volta qui a Matera dopo un grande successo riscosso in Corea del Sud? Sì, questa mostra arriva direttamente da Seoul dove ha avuto anche lì un grande successo e proprio credo che non siano in gran parte neanche state sballate le opere perché erano già così pronte per un viaggio altrettanto difficile quale quello da Verona a Seoul. Grazie a tutti! Grazie a tutti!